Il Tiferno rilancia le proprie ambizioni di provare a raggiungere la Serie C nel giro di due anni e lo fa nella giornata di presentazione del nuovo partner commerciale del club, la Ecoenergia, azienda di Foligno, che sarà il nuovo main sponsor bianco-rosso nella prossima stagione. Mi fa piacere che ho trovato finalmente una persona più entusiasta di me, che è il dottor Bruno Sereni, di Ecoenergia, di Foligno, il fatto che un grosso imprenditore di Foligno abbia creduto nel progetto del Tiferno, di questa città, mi fa onore, come mi sarebbe a me dispiaciuto se un grosso imprenditore di Castello fosse andato a fare il main sponsor in un'altra città dell'Umbria. Il fatto di aver calamitato questa attenzione e quindi aver presentato un progetto interessante mi carica di entusiasmo e quindi spero, quest'anno io ho detto, non avremo grandi ambizioni se non di fare un campionato sempre, speriamo, di vertice, il programma è un programma biennale, quello di poter andare in Serie C sarebbe il nostro sogno e il main sponsor ci sta puntando tantissimo e speriamo, dai, la cosa che garantisco veramente è che ci divertiremo, questo è senz'altro, perché quest'anno c'è un entusiasmo rinnovato, si sente proprio un'euforia e anch'io mi sembra quasi come se fosse il primo anno quando ho preso il Lerchi in prima categoria. Vista l'amicizia ventennale con l'avvocato presidente Roberto Bianchi che ci eravamo un po' persi e poi ritrovati per amicizia in comune è stato prospettato questa partnership e questa collaborazione come main sponsor visto che poi il territorio è abbastanza importante, come ha detto prima Michele Bianchi è la quarta città dell'Umbria, comunque si ha un bacino d'utenza importante anche con l'Academy, di 4-500 ragazzi che più o meno adesso vado un po' a memoria che sono presenti nell'Academy, c'è un bacino importante mi è piaciuto il discorso del progetto sportivo che comunque non si limita a quest'anno ma è un discorso un po' pluriannale come abbiamo accennato con Roberto sperando di raggiungere con il tempo e in base dopo alle situazioni che si verificano che si presentano durante la stagione sportiva questa Lega Pro